E benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui su Rocket League Perché? Grazie a IP Games che ha offerto questo capolavoro di gioco Gratuitamente, aggiungerei Siamo qua insieme a Loned Il famoso Loned che sta sempre con me E Davide l'amico suo Che diciamolo porcona sempre Tranne in questo video che non lo farà Aggiungiamo Esatto, quindi Quando il signor Loned vuole startare la partita Me lo dica Perché siamo tutti qua ad aspettare E aggiungerei che ieri è cominciato l'evento Quindi se non avete scaricato il gioco Scaricatelo Fate le missioni Ave non vi sbloccate le cose Sia su Rocket Sia su Fortnite E buon game a tutti Intanto startiamo Due Uno Vai Allora cerchiamo di fare qualche gol adesso La mia squadra molto Molto Cioè parla molto Ah perché dovete tryhardare a posto Mamma mia Ma perché Quelli sempre forti contro Che siamo tre nabbi dell'ostia Eh sì Se non sarebbero Guarda 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 Davide in base loro Mica in base nostra Poi io non so difendere Ok Ma Favelion Sarà tuo cugino No È tuo partello È tuo sorello Dai Ok Mi piace Vai 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 Dobbiamo fare Mannaggia sti guau È un gol Sì è un gol Dalla parte nostra No Anel Però non devi fare il giro della morte Il giro della morte Non ho capito Penso le parole Neanche pensi tante cose ma Però non le fai Eh bravo Dai dai Sta andando bene No l'ho missata Eh sta andando bene Guarda eh Mo l'ha detto Dai Dai Può anche stare in base nostra La palla Basta che non è Ma È possibile Ogliela lanciata dentro Ha visto che io sono Il capo del video Faccio quello che mi pare Ok hai capito Eh la palla Dai Eh vabbè Ma dai Ma sai la Mallona C'ha la mini Cosa vuole fare Questa mini Questa partita C'è va O deve Questa Questa partita Deve workare Altrimenti siamo Nei casini Cioè non worka È un problema Ok l'ho sistemata L'ho fixata Io ho capito Io ho fixo Sì lui fixa Certo Ok E' un attacco E' un attacco E' un attacco La mando Centrocampo Sì Mi Wow che centrocampo Ma andate Mi ha buttato fuori Sì sì Ma dai Io l'ho missata Pure io Dai Dai che Scarsu Eh sì Vabbiamo Ok No No Non ok Eh Io E pam 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 Ma non dovete Non dovete Sì Eh sì Chi è Chi è lo scemo Che è morto O siamo di guerra Che è morto Bravo Ah Sciocchino Vuoi tu sgarbata Che non ho fatto Ti amo tirare Mannaggia Te l'ho mandata Su entrare Sì eh Ma se Ma già Eeeh Sì Guardi 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 Grand Ok Beh L'ho fatta Io Non so come Però Ok Ma 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 Questa è anche bella È anche bella Solo che Eh ma cosa Guarda Aspetta Aspetta Adesso noi Abbiamo fatto il gol Quanto scommetti Che adesso a loro Per uno strano Baguettino Qualcuno è esploso Non lo so Comunque uno Dallo squadra Sicuro Adesso a loro Entra un'altra palla Non importa Sicuro Davide Sei proprio Magua La pianti Davide Di buttarmi via Cioè Mi fai tornare in base nostra Ma lo fa a posto Davide Allora Cioè Cioè Guarda te Non ho parole Quanto ho missato Eh io Anche io Le avrei le parole Solo che Adesso non le dico Vai Non ho missato Come l'avete missato Eh Mi sono accorto Mi sono d'accordo Che l'ho missata Malamente Ricordatevi il turbo Di prendere ogni volta Perché altrimenti Un minuto è rimasto Siamo a 3 a 2 E questa è vinta E dai Almeno una Io vi direi Facciamone un'altra Speriamo di vincere Ovviamente Ok dai dai Seconda partita Che bella Beh Beh Io Te pare ovvio Ovviamente Certo Ti sembra che io Non esploda Ho sbagliato Eh appunto Qua ho sbagliato Va bene Eh bra Bravo Ma se ma quella Ancora più Ancora più Ancora una volta Cacchio parto Esplodo Che sono Che sono una miccia Porco cane Eh ma non la c'è Ma non è un insulto È la pura verità Ma regà Una mano Ok questo qua era il motore Della macchina di Davide Già lo sapevo Cioè è palese Certo 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 Già lo sapete 3 a 0 Sì certo No non è detto Ma cosa ho fatto Io non lo so No Quella missata Vai costa mini Muoviti Portaci per campo Ho preso No Ok Drone Dai Dai drone Drone Eccola Eccola Eh ma Non ho Non ho turbo State buoni Dai prima Ma ho preso Il 100 Eh 100 100 Golla No 100 100 che non entrava Sta palla Mannaggia lei Ma che cosa sto facendo io Niente Schifo Eh Direi Lo che l'hai mandato indietro Eh direi Sì Se l'hai mandato indietro È davanti a porta nostra Eh ma perché l'hai ritirata Davanti Tutti Guardi Oh 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 L'OLED Non sono a me Che parola No Io sto mezzo Trajardando E che me ne sto zitto Il problema è che Noi dobbiamo fare un V No Porca No Non riesco a fare un tiro No Ma se tu ti puoi Perdi La carichi La partita No 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 Ned Che cavolo Stai facendo Oh No Ned Ma cosa fai No Vai 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 No Ho sbagliato Eh Anch'io Eh Anch'io Eh Mannaggia Stava Allora Aspetta che Aspetta un attimo Se fossi più bravo A fare il volo col turbo Questo poteva essere anche dentro Eccola Grande Perfetto 3 a 3 Pareggio Stai a provare Solo che Urca 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 Vacca L'OLED Tira L'OLED No Vai Non ci credo No Dai Orca Vaca Ma non diventarsi te Cosa è il problema 3 a 3 Se perdiamo Ma per Non lo so che esplosa Ma non mi Attenzione Attenzione Pravera con il god finale Oh ma Direi Ste partite molto interessanti Un po' tra i jardini Cioè un po' zitte Ma interessanti Vittoria Doppia vittoria Addirittura Però ovviamente Il Il migliore Indovina un po' chi è E' sempre lui Il più scarso Con la mini 1200 punti Quindi Torniamo un attimo Alla robbie Perfetto Mi ha fatto lui L'auto Del video Quindi Non è niente male Quindi ragazzi Vi ricordo Iscrizione Campanella Sempre attivi Sul mio canale Vi ricordo Che ogni domenica Uscirà sempre un nuovo video Adesso che ho Rocket League Possiamo fare anche Qualche video in più Su Rocket Altrimenti Fortnite Brawl Visto che devo Ancora aprire Le casse Del vecchio Paz Quindi vi ricordo Iscrizione Noi ci vediamo Un prossimo video Bella ragazzi Fate un saluto Ciao Bella Bella